ma ciao bambini carissimi e bellissimi si spera a me segue soltanto gente molto molto bella dentro e fuori non mi interessa l'importante è che noi ci divertiamo in questo canale sono simpatico iscriviti trucco per essere simpatico è quello di accettare di non esserlo infatti quando inizio i video mi dico ehi zio peo sei triste e tutt'altro che simpatico ricordatelo nessuno ti ama ma ciao carissimi questo è elettrico dopo l'ultimo supertuber che è stato messo di scenette fantastiche in stile real time oggi lo facciamo relativamente serio nel senso solita inquadratura solite magie solito disegno mettiamo gli occhiali del potere e iniziamo immediatamente a parlare di cose serie certo che lo sfondo qui è davvero brutto e vuoto adesso è brutto e pieno sono simpatico iscriviti in effetti mancano soltanto 890.000 iscritti al milione quindi iscrivetevi che manca davvero poco non come i two players one console che invece sono un milione e due i ragazzi e macinano macinano di brutto come dei schiaccianoci con le visualizzazioni madonna che paura che mi fanno tutte queste visualizzazioni sono davvero tante sono davvero tante non come zio peo che una persona sola format di combinazione uomo donna con fortnite e minecraft mi sembra la formula perfetta per un'esplosione di visual ma di quelle proprio ciao bambini siccome sono triggerato da così tante views ho deciso che questo video sarà fatto tutto in ASMR così che io possa mettere ASMR nel titolo e fare anche più belle views dato che il mio video più visto ha 240.000 views il secondo 200.000 e loro solo 17 ore fa ne hanno fatto 300.000 porca zozza come potete vedere nella votazione i two players one console hanno distrutto proprio la concorrenza con una fracca di voti una vagonata io scorro solo loro ci sono una vagonata una seghiata di voti ok e loro già sono in due quindi questo disegno mi ci vorrà un sacco di tempo porca zozza all'inizio avevano vinto come supereroi col 76 per cento poi però nei commenti tutti volevano fir cattiva e steve buono allora ho detto e chi sei iscritto a winzappa sei iscritto porca zozza allora ho detto facciamo una votazione in cui uno è supereroe e l'altra è super cattiva o entrambi supereroi ma uno di loro è costretto a essere buono come i noob capito capito e vince l'opzione uno buono uno cattivo quindi per i super poteri abbiamo fatto due votazioni separate questo per estrema sicurezza in modo da non trovarmi nei commenti e potevi fare così e potevi fare colla e mi rotto le palle quindi ho detto calma state buoni faccio votare per tutto io ok così siamo sicuri vince come super potere di steve occhio di pacco cioè uno col cecchino che spacca spacca proprio i culetti ok e per fir invece lei sarà miss esplosiva una che fa proprio boom 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 cosa succede se urlo adesso col microfono così miss esplosiva farà boom quindi suppongo che fir sarà in questo punto qua si allungherà con la manina verso steve che sarà più o meno qua e qui dovrò riarrangiare un po' i supereroi e come potete vedere zio peo è sempre pronto con le immagini di riferimento ok sono sicuro che farò impazzire qualcuno con questa stupidaggine dell'smr iniziamo bene abbiamo finito a fir o fere o ferina non so come si pronunci fir suppongo di si finito non proprio però se perdo troppo tempo nello schizzo finiamo dopo domani quindi adesso passo a steve il mio è un'idolo fin da quando sono un bambino allora qui la faccenda è molto complicata ok è vero che poi saranno separati ma questo mi costringe a disegnarli colorarli inghiostrarli eccetera su gruppi separati proprio cosa che mi complicherà la vita ma prima di iniziare a inghiostrare vorrei farvi entrare nel mood giusto così sicuramente sarete più rilassati e vedrete più con gioia l'inghiostrazione il rumore della carta come svolanza del vento il rumore dei guanti infernali che si strofinano della busta della farmacia oh la busta della farmacia la migliore il rumore dei guanti infernali Grazie a tutti. Ciao tesorini, come potete ben vedere abbiamo finito l'inchiostrazione e sono le dieci e mezza di notte, porca zozza, io devo finire per forza stanotte o è un casino. Assurdo, non ci sarò per tre giorni, mi sto anticipando i video e sono abbastanza fuso, si era capito? Il mio energy drink mi aiuterà a proseguire questa notte. Last summer è un video che capisco che qualcuno piaccia, ma ce ne sono alcuni che sono davvero di un cringe pesante come questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao bambini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se avete un canale in due, scioglietevi perché io due non ne posso fare, ci vuole troppo lavoro, ok? Ricordo di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se questo video vi è piaciuto, iscriviti se sei un nuovo visitatore perché magari ami i tuoi player su al console e allora sei qui per questo. Beh, iscriviti, non perdere tempo, ok? Io ti voglio bene. Ricordati che questo era Electric. Ricordati che questo è un po' di amore. Ricordati che questo è un po' di amore. Ricordati che questo è un po' di amore.